Silvio, tu sei uno dei bagnini del Lido di Bolzano, in giornate come queste particolarmente affollate, quanto è importante la sicurezza? La sicurezza è molto importante per noi quando c'è tantissima gente e non si riesce a vedere tante volte neanche il fondo della piscina, però i ragazzi sono tutti in gamba e a fine giornata siamo tutti felici se non succede mai qualcosa di grave. Per quanto invece riguarda i bagnanti, a livello di sicurezza cosa consigliate? Allora la prima regola è non saltare mai dai bordi perché se c'è qualcuno sotto si può far male, non correre e non bere e andare in acqua, tra le regole principali sono queste, poi comunque abbiamo visto che i bagnanti quest'anno sono abbastanza bravi dai, perché noi li teniamo abbastanza sotto controllo.